Riunione ieri sulla vicenda Porto, fortemente voluta dal gruppo di lavoro Porto di Gela che da diverso tempo segue l'iter che dovrebbe portare l'infrastruttura locale ad una sufficiente funzionalità. Il tempo scorre inesorabile e le attività che orbitano intorno al Porto sono ormai al collasso. E' emerso fuori che praticamente il sindaco ha detto che non c'è nessun progetto di project financing in essere quindi ufficialmente nemmeno esiste, è stata solo una proposta fatta lì così ma senza nessun progetto da vagliare. Siciliano ha lanciato sui Max Media questa proposta, non so da quale pulpito è uscita fuori, non siamo riusciti a capirlo. Non avevamo timore per un investitore che vorrebbe investire a Gela, anzi che benvengano gli investitori a Gela ma per cose un po' più concrete, cose più serie, cioè non parliamo di un Porto come quello nostro che da due anni si lavora per ottenere dei finanziamenti, per ottenere un progetto e oggi che è tutto pronto arrivare a un project financing, a fare che cosa? Non capiamo qual è il nesso di questo project financing per ottenere cosa? Una volta che abbiamo già i fondi reperiti da parte della compensazione, il progetto già esecutivo quindi non capiamo questo project financing a che cosa serve, che benvenga ma che vada a fianco al porto a farsi un nuovo porto e quindi presentare un progetto serio, valido, dove verrebbe vagliato sul progetto sul tavolo di lavoro al comune e quindi capire se può andare avanti. L'iter per quanto riguarda il Porto di Gela è un po' ancora fermo perché il 28 giugno c'è stata l'ultima riunione a Palermo e dal 28 giugno ad oggi non è ancora arrivata la lettera d'intesa, quella che doveva arrivare dopo due o tre giorni massimo quindi sono passati circa 45 giorni solo per avere una lettera d'intesa quindi ancora non sappiamo esattamente i tempi, speriamo che siano brevi come ci ha annunciato il sindaco quindi si metterà in moto immediatamente per riuscire a prelevare questa lettera d'intesa che è ferma a Palermo quindi oggi l'amministrazione comunale si deve solo impegnare ad accelerare semplicemente i tempi per quanto riguarda questa lettera d'intesa fra comune e regione e Eni.